Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video. Torniamo a giocare e vi farò conoscere un gioco davvero molto compatto, molto piccolo, ma davvero divertente. Chi l'ha detto che i giochi piccoli non possono essere belli? Beh, è proprio questo il caso di Air, Land and Sea, Animali in Guerra. Io e Maura torneremo a sfidarci per avere la meglio? Chi avrà il controllo dei territori? Chi riuscirà a giocare al meglio le proprie carte? Beh, come sempre, prima di mostrarvelo a Promotion Time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video. Iscrivvi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione trovate i link d'affiliazione per acquistare il gioco insieme ai vostri preferiti. Come sempre a voi non costeranno niente di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre, se siete di Padova o nei dintorni potrete venire in negozio a fare i vostri acquisti o anche solo per giocare e ancora giocare, visto che c'è una ludoteca gratuita. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link per tutti i nostri social, sito, facebook e instagram. Quindi vi aspettiamo, siamo ovunque, ma ora bando alle ciance perché giochiamo. Sigla! Ed eccoci qui pronti a giocare a Animali in Guerra, un gioco per due giocatori fighissimo e che non vedevo l'ora di farvi vedere. Davanti a me non c'è Gerardo questa volta, ma torna Maura! Ciao! Che cercherà di vincere come sempre, visto che non ne vinco manco mezza. Come funziona il gioco? Beh, è molto molto semplice. Avremo sei carte in mano, come potete vedere. Queste sono le mie, questo invece è il mazzo di pesca. Forse non è vero. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sì, sì. Al momento lo mettiamo fuori camera perché non serve o comunque potrebbe servirci ma non è così fondamentale. Ci sono tre scenari, aria, terra e mare. Per vincere dovremo avere la maggioranza, quindi il controllo, di almeno due territori su tre. Giocheremo carte, avranno dei valori e appunto poi andremo a sommarli. Ma cominciamo subito, bando alle ciance, vediamo chi inizia. Pescheremo a caso una di queste carte comandante supremo. Io sono il primo giocatore. Io il secondo. E tu sei la seconda giocatrice. Faccio vedere la confezione perché è bellissima, c'è quel maialino a me piace un sacco. Allora, qual è lo scopo del gioco? Arrivare a 12 punti. Ogni manche vinta da 6 punti ma ci si potrà ritirare. Più carte avremo in mano quando ci ritireremo e quindi daremo a tavolino la vittoria all'avversario, meno punti gli daremo. Quindi bisogna anche scegliere quando conviene ritirarsi e se conviene ritirarsi. Allora, cominciamo subito. Noi potremmo fare una di queste tre cose. Una è appunto ritirarsi se vediamo che sta andando troppo male. L'altra è giocare una carta scoperta a faccia in su in uno dei tre scenari del colore corrispondente oppure giocare una faccia, una carta scusate, a faccia in giù. Varrà sempre due. Ci sono alcuni casi eccezionali ma nel caso li vedremo ma la potremo giocare in qualsiasi scenario che vogliamo. Ma poi man mano giocheremo. Parto io perché sono il primo giocatore, le carte sono 18, sono nei tre colori dei tre scenari, ognuna numerata da 1 a 6 e tutte in singola copia. E allora cominciamo subito. Cosa posso giocare? Arrivo. E ognuna ha un effetto diverso ovviamente. Esattamente che qua abbiamo come promemoria per noi che stiamo giocando ma man mano che le giocheremo poi ve la facciamo vedere. Va bene iniziamo piano. Giocherò qui scoperta supporto. Vale 1. È di aria perché è bianca. Questo significa che questo effetto questo infinito che vedete sarà attivo finché sarà visibile la carta. Ottengo un più 3 di forza in ogni scenario adiacente. Significa che qui ho già un più 3 e qui niente perché non c'è nessun scenario quindi non è adiacente al mare. Quindi ti andava meglio se era in mezzo. Al momento mi andava sì decisamente meglio. Ok io vado con questa che non ha effetti ma sono 6 punti. Ok. Carri armati pesanti. Allora io gioco imboscata. Gira una qualsiasi carta scoperta. Che significa scoperta? Qui ci ho messo un attimo anch'io a capire a capire questa cosa. Scoperta non significa a faccia in su ma che non abbia un'altra carta sopra. Perché quando giocheremo una carta in uno scenario dove ci sono già presenti carte nel nostro lato l'andremo a prendere una carta a caso dal dal mazzo a coprire in questo modo. Questa è scoperta questa è coperta cioè scoperta che non ha altre carte sopra. L'ultima. Esattamente l'ultima della colonna. Quindi tu vuoi girare questa vero? Certamente no. Ciao. Grazie. Il suo 6 diventa un 2. Un gioco al massacro. Per ora. Per ora. Vai. Ritirati. Tanto qua censurerò. Ok. Proviamo a fare così. Questo ha un fulmine. Vuol dire che ha un effetto immediato e basta. Esatto. Manovra. Gira una carta scoperta in uno scenario di accende. Quindi proviamo a rigirare. A riprenderci il 6. Ma adesso io so che tu me lo giri di nuovo. Se per qualche effetto questa venisse messa a faccia in giù. Ma poi fosse rivelata. Quindi rimessa a faccia in su. Si riattiverebbe nuovamente il potere di quella carta. Ma speriamo non sia questo caso. Vediamo un attimo. Va bene. Tosta. Secondo me ritirati. Certo. Questa 5 interferenza. A partire da me entrambi i giocatori scelgono e girano una loro carta scoperta. Quindi io giro questa al momento. Io giro questa. Sicura? Sicurissima. Prego. Quindi al momento siamo 2 a 0. 2 a 0. 6 a 7. Già. Quindi al momento sto vincendo io. Perché qui ho il controllo. Tu hai controllo di questo. Io giocherò questa. Rinforzi. Pesca una carta e giocala a faccia in giù in uno scenario adiacente. Quindi prenderà una carta dal mazzo di pesca. La puoi guardare. Ok. Ma comunque dovrà giocarla a faccia in giù in uno scenario adiacente. Quindi o nel mare o nell'aria. La posso guardare perché eventualmente posso decidere se mi interessa dopo magari girarla. Se posso. Con qualche effetto. Se posso. Qua. Quanto è carino. Sono arrabbiatissimi ma sono comunque pucciosi. Diciamo che fare questa cosa un po' mi protegge questa. Perché. Perché l'hai coperta. Se un effetto mi fa girare una carta scoperta. Questa non è più scoperta. Ecco. Momento. Vuoi ritirarti? No. Giocherò manovra in cielo. In aria. Scusate. Giro una carta scoperta in uno scenario adiacente. Ti faccio girare questo. So che diventa un 2. Vuol dire che hai qualcosa. Non preoccuparti allora. Vuol dire che hai già qualcosa di pronto per dopo. Perché un effetto se non c'è scritto puoi devi comunque per forza se è possibile attivare quell'effetto attivarlo. Quindi non posso dire no gioco solo per il numero e poi l'effetto non mi interessa. No. Bisogna. Comunque se volevi anche questa radiacente. Vabbè vado di conte. Oh scusa. Invadi il mio territorio eh. Pardon. Eh contenimento. Se un qualsiasi giocatore quindi anche io stessa gioca una carta a faccia in giù distruggi quella carta. Ok. In questo scenario. Beh non c'è specifica. Ah no. A faccia. No scusami quella è l'assedio scusami. Quindi chi gioca le carte a faccia in giù adios sono distrutte come non ci fossero. Giocare significa dalla propria mano quindi non girare a faccia in giù. Allora io ti dirò. Sì. Siamo in caso di pareggio 5 a 5. Vince lo spareggio il primo giocatore. È uno dei dei bones che ha di contro. Deve e qua c'erò io. Qua c'è. Qua è mio e qua è mio. Va bene. Va bene. Io mi ritirerei. Ozzi ozzi. Aerodromo. Puoi giocare carte con forza pari o inferire a 3 nelle scenari non corrispondenti. Quindi posso giocare dove voglio quelle carte. Ok. Se ho quelle carte. Va bene io giocherò questa qua. È come questa. Non ha effetto. Ma vale 6. Se mi resta così. Ci provo. Vai. Gioco manovra. Qui. Gira una carta scoperta in uno scenario adiacente. Scusa. Ho girato questa. Qual era scusa posso riguardarla? Eh ma. Ah quella che ti distrugge. Sì. Mi interessava dal 5 a 2. Più che altro. Ritirati. Va. Aspetta un attimo. In realtà mentre lei pensa. Non gli conviene ritirarsi perché comunque da 0 a una carta se si ritira mi darebbe comunque 6 punti che è comunque il punteggio massimo che si può vincere quando si vince un round di gioco. Scusa. Qua sono in vantaggio io. Qua sei in vantaggio tu e anche qua. Sì. Giusto? Che vuol dire che o vado in vantaggio o hai vinto tu perché anche se vado in parità in caso di pareggio vince il primo giocatore. Esattamente. Ah beh. Quindi alla fine ce l'ho in quel posto. Ah beh. È giusto per non... Così possiamo conoscere anche l'effetto. Darti la soddisfazione dei 6 punti così miseri della ritirata. Guarda che lo ti stai. La prossima volta che giochi una carta puoi giocarla in uno scenario non corrispondente. Ma ho finito le carte quindi è un po' inutile. E allora non abbiamo più carte in mano. Il round è finito. Andiamo a vedere chi ha il controllo dei territori. Nel mare è di Maura perché siamo a 10 a 0. Un punto per Maura. Nella terra invece sulla terra 5 più 2 più 3 è più forte di 1. Di 1. È comunque più forte di 1. Quindi qui il punto va a me. Va al punto anche a me per quanto riguarda l'aria. Perché 4, 5, 6, 7, 8, 9 contro 4. Due territori su 3 sono miei. Quindi io guadagno 6 punti. Che ne andiamo a mettere qua perché non fa schifo. Cominciamo un nuovo round perché vi ricordo che l'obiettivo è arrivare a 12. Quindi cambiamo tutto. Ci scambiamo il primo giocatore ma soprattutto poi si cambia anche per quanto riguarda la posizione degli scenari. Questi scorrono così. Eccoli qua. Quindi cambiano anche per quanto riguarda un po' le adiacenze che ci potrebbero essere. Mescoliamo qua le carte. Le adiacenze. Adiacenze. E questa non è ancora in mezzo. Non è ancora in mezzo. Sei carte. Due, tre, quattro, cinque, sei. Let's go. Io mi ritirerei se posso in te. Così, all'inizio. Mi dai due punti secchi invece di sei. Magari ho delle belle carte. Le ho tutte io. No, che sfiga però. No, in realtà no, lo stavo dicendo per un'altra cosa. Ritirati. Vabbè, comincerò con quella con cui hai cominciato tu prima. Ok, più 3, solo qua. Il prossimo round l'aria sarà in mezzo. Magari non c'è un prossimo round dove chi va da sei. È vero. Quindi adesso. Oh cavolo. Allora. No, quella no. Nemmeno questa. Nemmeno questa. Questa sì. Io gioco rinforzi. Pesca una carta a faccia. Cioè pesca una carta e gioca la faccia in giù in uno scenario adiacente. Guardo che cos'è. La metto in uno scenario adiacente e tocca a te. Ok. Andiamo di nuovo. Voilà, pesante proprio. E allora gioco la manovra. Giro una carta scoperta in uno scenario adiacente. Guarda, scontatissimo. È la guerra. Allora, proverò a fare questa cosa. È buono. Rischieramento. Puoi rimettere. Oh, che la copri, no, scusa. No, puoi rimettere una tua carta a faccia in giù e non scoperta, quindi anche questa. Sì. In mano. Se lo fai, gioca una carta. Quindi me la prendo e posso quindi giocare un'altra carta? Un momento. Beh, ci riprovo. Ma dai. Vediamo. Cioè non puoi sempre avere carte che fanno girare carte agli altri. Invece sì. Un attimo. Sì sì. Un attimo. Ritirata. Ritirata. No. So che è una combo potente e devo capire come farla entrare. Se faccio così, poi... Stupide adiacenze. Adiacenze? Ti piace questa parola? solo così. Ah, ok. Bombardieri pesanti. Ok. Vabbè, proviamo con il... la prossima volta puoi giocare una carta in uno scenario. Dove vuoi. Dove vuoi, sì. Dai, con la combo. Su, sono proprio curiosa. Gira una qualsiasi carta scoperta. Vabbè, ho capito. No. Ah. Ah. Ok. Anche se una del colore corrispondente vale. Questo perché... Fatalità della carta che ho pescato dal mazzo prima. Però non la... Cioè questa è quella che hai pescato a casto. Sì. Io non dico lì. Per quanto riguarda le adiacenze o comunque... No, scusate, il colore corrispondente è solo quando giochi la carta, non quando la giuri. Mentre se giochi per quanto riguarda che coperta, i colori non devono per forza essere gli stessi. Come in questo caso? Beh, giocherò questa perché avevo il bonus di giocare in uno scenario differente e è quella che distrugge le carte giocate a faccia in giù. Va bene. Da chiunque, anche da me. E allora, gioco. Adesso perché tanto non ha più senso. Escalation. Tutte le mie carte a faccia in giù ora hanno forza quattro. Non ne ho. E non ne posso giocare più adesso. No, beh, puoi. No, sì, certo. Io mi ritirerei. Poi vieni un po' tu. No. Gioco qua. A partire da te, cioè da me, entrambi, scegliamo e giriamo una carta scoperta. Beh, io questa tanto due è e due rimane. Ok. Questa, questa. In realtà mi hai favorito perché questo 2 diventa 4. Eh, va bene, lo so, ma non è che potevo fare molto. Quindi, un secondo, devo vedere un po' cosa fare. 3, 4, 5, 6, 7, 8, contro 10. Anche se non vissi coperta, 10 a 10, tu vinci il pareggio. 10 contro 8 e qua ce l'ho io. E allora, gioco. Manovra. Gira una carta scoperta in uno scenario adiacente. Aspetta, non ricordo cosa c'era qui sotto. Sì, giro questa. Si riattiva. Gira una qualsiasi carta scoperta. Ma dai! Come è entrata! Cioè, mi volevi proprio asfaltare. Quindi, qui ho la maggioranza io, qui ho la maggioranza io, qui ho la maggioranza io, beh... È durata pochissimo questa partita perché guadagno altri 6 punti. 6 più 6 a casa mia fa 12 e quindi vinco! Dovete ritirarti? Io te l'ho detto, mi davi meno punti. Hai avuto culo! No, quella era la combo che vi aspettavo. Questa l'hai pescata a caso. Questa te l'ho girata io. Questa sì. Però, cosa vedo, comunque... Mi dispiace, non sei una... Non è vero. No, per niente. Non sei una guerra fondaia. Va bene. Anche se è durata poco, ma ci sta. Questa era animali in guerra. Io sono l'animale in guerra più forzuto che ci sia. Fatissima del maialino, che è troppo carino. Spero di avervi fatto capire come funziona il gioco, anche se è stato velocissimo perché... Eh, sono troppo bravo, scusate. Fammi gasare ogni... Cioè, perdo sempre, almeno una volta, santo cielo, fammi vincere. Questa era, allora... Animali in guerra. Spero di avervi fatto capire come funziona il gioco. E... Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Ciao! Puoi andare in un angolino a piangere, vero? Dopo, quando finisce il video. Bene. E noi cambiamo impotratura. E questo era Animali in guerra. Un gioco tanto piccolo quanto bello e quanto cattivo. Una partita che è durata poco perché ho finalmente avuto una vittoria stracciante, ma ogni tanto ci vuole. Spero comunque che vi abbia fatto capire un po' come funziona il gioco, ma soprattutto se è nelle vostre corde. Scrivete qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, se avete capito un po' come funziona, se appunto c'è qualcosa che vi convince o non vi convince e così via. Come sempre io vi leggo e appena posso vi rispondo. Inoltre vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video e fare tutte quelle diavolerie che si fanno qui su YouTube. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link d'affiliazione per acquistare il gioco. E tutti i vostri giochi preferiti, come sempre, a voi non costeranno niente di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro. Aiutandoci a migliorare ancora e ancora, ma soprattutto a darvi sempre più contenuti. Inoltre sempre qui sotto in descrizione troverete anche i link per tutti i nostri social, sito, facebook e instagram. Quindi vi aspettiamo anche lì e quindi a me non rimane che darvi l'appuntamento al prossimo video. Ciao!